Ben trovati l'ATG della mobilità in Campidoglio oggi fino alle 18, la camera ardente per ultimo maggio all'ex calciatore e tecnico Sinisa Mialovic, scomparso lo scorso venerdì 16 dicembre. Il funerale si svolgerà domani alle 11 della Basilica di Santa Maria degli Angeli in Piazza della Repubblica. Già dalle 7 del mattino scatteranno i divieti di sosta in Piazza della Repubblica, via Vittorio Emanuele Orlando, via Luigi Enaudi, via delle Terme di Diocleziano. Previste chiusure delle strade vicine e deviazione per il traffico pubblico e privato. È prevista una numerosa partecipazione ai funerali sia di rappresentanti delle tifoserie sia di esponenti delle società sportive e istituzionali. Il piano della viabilità è in corso di aggiornamenti. Piano della mobilità delle feste, oggi trasporto gratuito sull'intera rete cittadina. È tutto per questo appuntamento con il Tg della mobilità.